Ah, questo scisma d'Occidente! Eh, quanto male fa questo scisma! Accovi di ritorno, sorella Rita! Eh, che cos'è uno scisma? È la moltiplicazione dei capi. Sorelle, disponiamoci alla siolvere, mentre sorella Rita farà la lettura. Beatifiche visioni, Tomo VI, Capo IV. Il beato Timoleone Fidati, mentre ad orso di mulo si recava a Bagno Reggio, fu visitato dalle anime del limbo, onde fu dalla bestia calpestato e nebbe fuori tutte le budella. La beata Gemma Albertoni, essendo in età di anni dodici, gioceva sin al letto, quando, voltatasi dalla parte del cuore, vide una scala che saliva fino al cuore, le si ruppe una vena in tetto ed ebbe uno sbocco di sangue. Il beato Ugolino Cosciari, abbandonato ogni suo avere non era poco, visse in grande austerità in un pollaio, mai curandosi dei fiotti di cataro bronchiole che vomitava meditando la cuoresima. Il venerabile Andrea Casotti, non toccò mai Giaciglio nella sua vita terrena e poteva udire i cori angelici dormendo all'impiede in sua penitenza legato faccia a faccia con un cadavere. Deo grazie.